buonasera a tutti e benvenuti all'ultimo appuntamento ogni anno diciamo mi ricordo l'ultimo appuntamento l'anno scorso con se non sbaglio era con ferruccio de bortoli o con con questa nuova diciamo chiusura di un ciclo ormai lunghissimo che abbiamo fatto con redazione finanza e con money farm in cui abbiamo invitato i protagonisti più attenti lettori della economia italiana a discutere con noi del che oggi abbiamo anche per l'occasione uno degli ospiti più più importanti che abbiamo avuto e più autorevoli che abbiamo avuto in questa rassegna alan friedman giornalista conoscete tutti autore di un libro dieci cose da sapere sull'economia italiana o dieci più due cose da sapere sull'economia italiana man mano che il tempo evolve aumentano le cose da sapere perché aumenta la complessità io cedo subito la parola a paolo galvani di money farm per un breve saluto e per introdurre la serata e poi cominciamo questa nostra chiacchierata oggi diciamo faremo una cosa molto all'anglosassone un'ora bella spessa sì non so se dire una cosa un po anglosassone in questo momento è esattamente il comunque una cosa che non sappiamo come inizia non sappiamo che ha preso un'altra connotazione no va bene giusto due parole buonasera grazie di essere intervenuti come diceva francesco è una è una questa è un format che ormai stiamo portando avanti da un po di tempo ci piace avere questo momento di di confronto aperto con i toni i modi che insomma ci contraddistinguono che non distinguono l'inchiesta contraddistinguono money farm due parole su cosa facciamo per chi non lo sa o per chi non non ci conosce di fatto noi siamo siamo un siamo un web manager ovvero sia aiutiamo le persone a gestire i propri risparmi lo facciamo in maniera un po diversa rispetto ai modelli tradizionali nel senso che abbiamo utilizzato la tecnologia per cercare di costruire un modello nuovo quando intendo nuovo intendo che è un modello che predilige la semplicità predilige l'indipendenza cerca di fare in modo che il percorso sia quello di dare la consulenza alle persone di non vendergli degli strumenti finanziari e siamo partiti con questo progetto ormai da qualche anno i numeri e la storia sta andando bene siamo partiti dall italia siamo anche in inghilterra l'anno prossimo partiremo in germania insomma è una piattaforma è un progetto italiano nato qui che adesso si sta si sta evolvendo diciamo a livello europeo ormai insomma siamo arrivati a circa 30 35 mila clienti partendo da da una cosa un piccolo ufficio diciamo in zona città studi insomma è stata una bella storia continua a essere una bella storia in questo ambito ci piace l'educazione finanziaria in generale parlare di finanza parlare di economia è una parte importante di quello che facciamo è da lì che è nata poi la collaborazione con con l'inchiesta di francesco e tutto questo si colloca un po in questo in questo ambito quindi questo è questo diciamo è il cappello questo è quello che facciamo noi questo è anche il piacere di essere qui questa sera per poter parlare diciamo in maniera molto ampia di tutta una serie di temi di attualità e principalmente di economia che riguardano l'italia ma non solo quindi francesco a te marta io comincio subito a fare la domanda più difficile del mondo ad alan friedman nel senso che è difficilissimo chiederci a cosa c'è da sapere sull'economia italiana nel senso che ci sono alcune cose che sappiamo bene alcune cose che sono cose che dovremmo sapere molto meglio la domanda difficile che cosa sta succedendo in italia per ad esempio siamo un paese che negli ultimi sei mesi i sei mesi che hanno contraddistinto diciamo la nuova legislatura ma anche tutto quello che sta succedendo nel frattempo anche in europa ci siamo svegliati l'altro ieri con la francia di macron che ha deciso di dopo una grande rivolta nelle piazze di aumentare la propria spesa pubblica c'è moscovici che oggi ha detto che la francia può permettersela mentre l'italia no c'è un sommovimento in gran bretagna con con brexit ieri c'è stato anche fatto un attentato prima della plenaria della del parlamento europeo a strasburgo insomma è un europa volatile in europa che si muove ma dentro questa dinamica mi ricordo un articolo dell'economist di qualche mese fa che diceva c'è due rischi per l'europa e due potenziali detonatori eravamo all'inizio del 2018 il primo è la polonia sul tema dei diritti umani sul tema della di una costituzione che tende a essere sempre di più liberale il secondo l'italia sul tema dei conti pubblici sul tema della sostenibilità del proprio debito pubblico che rischia di essere un potenziale detonatore per l'unione europea siamo veramente un detonatore di questo mondo di questo continente in movimento cosa sta succedendo oggi in italia cosa succede nella nostra economia perché quello che stiamo vivendo è una fase o perché non lo è una fase estremamente rischiosa per il nostro paese una bella domanda buonasera a tutti io credo che particolarmente per chi guarda questo dopo stasera online oggi e 12 dicembre del 2018 e stasera 12 dicembre siamo in un'europa con tanti punti interrogativi con tante incertezze non a caso ho intitolato l'ultimo capitolo del mio aggiornamento dell'edizione sul libro sull'economia il titolo del capitolo è la certezza dell'incertezza perché le cose più strane stanno ancora per accadere siamo soltanto a un antipasto di una serie di macro tendenze in europa e tutto l'occidente che hanno a che fare con la politica hanno a che fare con la società hanno a che fare con l'economia e non si può più separare queste diverse discipline diverse tendenze stasera in gran britannia fra poco credo fra pochi minuti comincerà la votazione alla camera del comune e teresa mei cercherà di salvare il suo posto di lavoro come primo ministro e probabilmente riuscirà a salvarlo perché ha bisogno di 158 voti probabilmente prenderà una maggioranza non molto larga ma riuscirà a sopravvivere ma per poco tempo in ingolterra perché la teresa mei in ingolterra come la angela merkel in germania sta andando verso l'uscita della sua presenza nella politica attiva sarà un anno sarà un anno e mezzo sarà sei mesi ma non ci sarà più la teresa mei a un certo punto e in effetti lei ha contro di lei populisti di destra o di destra estrema nazionalisti demagoghi e anche quando mettiamo nel pacchetto l'ex ministro degli esteri boris johnson anche anche qualche buffone qualche imbecile perché boris johnson per chi lo conosce l'ho conosciuto dal sindaco di londra e dal giornalista al spectator è molto intelligente e molto intellettualmente disonesto proprio molto disonesto però la teresa mei è sconfitto da una rabbia e paura contro l'immigrazione che ha portato avanti l'onda della brexit in francia macron per me qualcuno dice qualcos'altro per me macron è stato sconfitto e si è mostrato forse meno capace di quello che sembrava non mi piacciono i paragoni fra renzi e macron anche se hanno in comune entrambi che volevano lanciare una serie di riforme strutturali per l'economia necessarie che vuol dire il mercato del lavoro più flessibile riforme del fisco riforme della burocrazia sia in francia sia in italia ma non sapevano come fare o si sono scontrati con la realtà di tanti interessi molto forti che bloccavano queste riforme in entrambi i paesi nel caso di macron ex banchieri di rothschild lui sa quello che bisogna fare per l'economia francese ma nessun presidente della francia io ho vissuto in francia ho lavorato per il herald tribune a parigi ho conosciuto svariati presidenti francesi nessun presidente francese di destra o di sinistra è mai riuscito a andare contro la volontà del popolo francese che è sempre molto statalista e molto assistenzialista e molto irresponsabile con i loro conti spesso purtroppo diventa sempre più vero che i popoli meritano i governi che alleghano e sono veramente questi governi specchi dei popoli in diversi paesi in europa e in america che non è una cosa così bella io ho trittato ieri che il fatto che macron in francia e teresa me in inghilteria sono stati sconfitti dalle popolisti e nazionalisti nei loro paesi non significa che i popolisti abbiano ragione significa che sono riusciti a convincere il popolo sfruttando il disagio sociale economico che ci sono delle soluzioni molto facile a problemi molto complessi mentre qui sul pianeta terra non ci sono germania merkel verso l'uscita sembra più promettente il fatto che è riuscito a nominare un minimi una sua disciplina una sua allieva come il suo successore in futuro nel partito cdu ma anche in germania nazionalismo un partito per la prima volta dopo hitler che ha 90 seggi nel parlamento del bundestag e che rappresenta una forza nazionalista e abbastanza con tendenza verso il razzismo quindi germania francia inghilterra così italia stranamente è quello che ha il governo più forte per certi perversi sorti nel senso che abbiamo un governo che non rischi di cadere se salvini non vuol farlo cadere e che non ha nessuna opposizione né nel pd che non esista più come quello che era e né nel forza italia che sta evaporando e quindi in italia l'unica questione politica è se salvini deciderà come può essere possibile di puntare al palazzo chigi da solo o ricostruire un centrodestra o un destra che si chiama centrodestra che veramente maloni e lui con quei 5 6 7 per cento rimasti forse italia che corrono al soccorso dei vittoriosi e quindi abbiamo la situazione politicamente in cui il populismo di destra soprattutto è molto forte in europa con tanti aspetti e ripercussioni e sociale capita che questi populisti che siano quelli che sono contro teresa me che vogliono un hard brexit o quelli che sono per quasi la metà 45 per cento dei gilets jaunes sono quelli che appoggiano e votano marine le pen e la parte del populismo estremo sinistra e quindi la parte di destra populista in francia in inghilterra nel partito conservatore e ovviamente qui è molto forte e hanno un comune che non c'è uno di questi movimenti populisti di destra in europa che nonostante nonostante il loro grande consenso elettorale che mostra competenza nelle politiche economiche quindi siamo davanti a un fenomeno di grande efficacia a raccogliere consenso elettorale ma in gran britannia nonostante i popolisti che vorrebbero distruggere il brexit e fare un hard brexit ma che non hanno nessuna risposta al fatto che costano 100 miliardi di euro a gran britannia 50 milioni di posti della city di londra e tutto il resto cioè proprio sono fra venale e incompetente mentre in francia macron non è incompetente ma he's a loser è perdente e in italia nel mio nuovo libro cerco di spiegare che abbiamo il risultato e i rischi di una politica economica che è scritto per la metà di persone cinici che vogliono solo distribuire a contentini lungo la strada verso il prossimo voto politico e quelli che non arrivano proprio quelli del 5 stelle che sono veramente genuinamente autenticamente incompetenti faccio una domanda relativa all'inizio all'incipit del tuo libro c'è una l'altra volta l'abbiamo riprodotto anche sull'inchiesta c'è una fake una fake news non è una fake news in realtà è un articolo di giornale è un fatto finanza esatto io apro il libro con un articolo da 2020 da sei mesi dopo la partenza di Mario Draghi della Banca Centrale Europea con un governo che per due anni è stato incompetente quindi ci sta e parlo del rischio di un crollo delle borse crollo delle azioni delle banche mancanza di capitale dei bilanci spread sopra 3 o 400 quindi immaginavo quando ho scritto quel capitolo quello come un rischio di 2020 continuo a vedere quello come un rischio perché l'Italia è un paese che grazie al debito di 2.300 miliardi e la mancanza di competenze nella gestione dell'economia in questo momento rischia costantemente ogni giorno ogni mese una tempesta perfetta vedremo stiamo parlando stasera ho detto è una serata di punti integrativi Theresa May vincerà promettendo di andarsene fra sei mesi e questo cosa vuol dire per la politica economica Macron non riuscirà a contentare i gilet jaune ci sarà più violenza per le strade di Parigi e più incertezza per gli investitori in Francia il notaio che è andato a incontrare Juncker Giuseppe Conte scusami, Luciere che è andato a svolgere il ruolo di messagerie musicale a Strasburgo senza poteri perché ci sono due grandi figure nel governo attuale che se fossero qui e non fossero imbarazzati e dicessero la verità e tu chiedessi a Giovanni Tria o a Giuseppe Conte quanto poteri decisino a lei c'era sulle politiche economiche se Giovanni Tria o Giuseppe Conte dicesse più di zero mentirebbero c'è una collega ha parlato di vicepresidenzialismo parlando dell'Italia io però vado a un punto abbastanza dirimente di quella che è fra l'altro abbastanza poco poco affrontato che questa ipotesi che è ventilata nei giorni delle tempeste perfette in qualche modo di quasi un prestito alla patria cioè dire agli italiani vi prendiamo dei soldi vi diamo dei BTP e io non più che parlare di questo vorrei parlare di un altro aspetto diciamo della politica economica che avviene avanti quella in qualche modo della politica che si intromette nella gestione della finanza si intromette decidendo più o meno quelle che sono le fusioni bancarie da fare abbiamo visto una commissione banche che l'hanno alla scorsa legislatura che ha dato più o meno diciamo il senso dell'ingerenza politica dentro questa situazione prima di passare alle banche di ingerenza posso concludere il pensiero sull'Europa che volevo arrivare a dire se non ho comunicato non solo c'è molta incertezza e questa politica cioè questa politica molto nazionalista e protezionista è un problema insieme con l'incompetenza economica ma io sono preoccupato sull'effetto sui dritti della democrazia in Italia Francia Germania e che cominciano nel tempo a spostarsi verso il modello di Ungaria perché credo che c'è un rischio in tutta l'Europa di una crescita non di democrazia illiberale in tutti i paesi ma di tendenze di democrazia illiberale e se il gilet jaune forse lo dico in modo molto più crudo e provocatorio se il gilet jaune in Francia per me significa che siamo in Francia in 1789 io vorrei sperare che in Italia non siamo a 1922 però mi riallaccio su questa domanda perché la cosa di cui volevo parlare è l'ingerenza dello Stato le politiche nazionaliste sono molto spesso anche stataliste nelle scelte finanziarie dei cittadini secondo la vulgata diciamo trasferendo in ambito finanziario quello che si è detto in ambito di politica economica siamo in una fase neodirigista siamo in una fase in cui statalista dell'economia siamo in una fase in cui anti-imprenditoriale le scelte le scelte finanziarie anche dei cittadini sono in qualche modo ingerite sono in qualche modo appesante sono scelte che puniscono gli imprenditori che in teoria dovrebbero creare il lavoro sì ecco da questo punto di vista è un po' anche una sorta di tramonto dell'idea liberale in qualche modo che la finanza debba essere lasciata libera che tramonto c'è una guerra violente contro l'idea liberale in corso io per i miei peccati ho assunto anche se sono americano ho assunto la presidenza del centro pronunzio di Torino che è un centro pronunzio che fu fondato da Mario Soldati e che cerca di difendere la libertà di espressione e il pensiero liberale non liberale destra o sinistra Voltaire e sono molto preoccupato di questo rischio in questo momento quindi è una guerra contro l'idea di democrazia quando Donald Trump non intendiamo infrontendiamoci quando Donald Trump attacca la magistratura attacca la libertà di stampa quando in questo paese i vicepremieri attaccano i giornali fanno elenchi anche di nome di chi è gradito chi non è gradito spesso qui siamo in un momento particolare c'è una tentativa di superare la democrazia liberale che è stata la tradizione europea per gli ultimi 75 anni in America io credo ci sarà un rigurgito contro questo e in 2020 noi americani mostreremo che il nostro sistema è forte la nostra costituzione è forte e nessuno è sopra le leggi in Europa credo che sarà più lento perché il processo di questo parabole di populismo è un ciclo largamente dietro quello di Trump Brexit Trump e poi Italia il ruolo dell'Italia se Italia diventa l'unico grande economia in Europa che vola attivamente smantellare le idee della democrazia liberale mentre persegue una politica economica incompetente che non crea crescita durante una recessione un periodo di stagnazione allora c'è una ricetta per una sofferenza in Italia una stagnazione e soprattutto un autogol da parte del governo italiano nei prossimi 12 mesi quello è il rischio che abbiamo Paolo io ribalto anche su di te che ti occupi di finanza vi occupate di gestire il risparmio ti faccio sempre questa domanda un giorno con l'altro voi diciamo facciamo wealth management e poi lo Stato decide che il wealth management delle persone deve essere quello di comprare titoli di Stato che nessuno all'estero compra neanche gli italiani stessi comprano visto che le ultime aste sono andate deserte voi sentite il peso in qualche modo dell'ingerenza dello Stato nella finanza lo soffrite in qualche modo che cosa e soprattutto qual è il vostro punto d'osservazione sulla situazione preoccupante che c'è in Italia e in Europa è un bel tema questo partirei da questa affermazione che si fa spesso penso che sappiate anche voi che il grande problema dell'Italia è il debito pubblico però se guardi poi il lato privato vedi che i cittadini i privati hanno uno stock di risparmio che è tra i più alti nel mondo pro capite il valore è molto importante è vicino alle grandi potenze abbiamo un tasso di indebitamento a livello privato che è tra i più bassi in Europa cioè noi fondamentalmente siamo un paese di gente che ha messo via i soldi e che si è indebitato molto poco e quindi da un lato quando si parla dell'estabilità dei paesi e della forza dei paesi viene un po' quasi naturalmente a dire però attenzione soprattutto quando ci si confrontano attenzione è una dicotomia falsa prego no no elabori i restauranti sono pieni no no in un paese ricco abbiamo 3.800 miliardi di patrimonio finanziario contro un debito di 2-3 se mettiamo insieme questo argomento non sta in piedi sono d'accordo ah ok quello che volevo dire cioè da una parte viene quasi per un senso di patriotismo chiamiamolo fare questo ragionamento dimostrando una certa stabilità complessiva del sistema però dall'altro è molto pericoloso questo ragionamento perché presuppone che il risparmio privato e quello che i cittadini hanno messo da parte hanno costruito sia in qualche modo assimilabile al valore complessivo dello Stato e qui si torna al tema che dici tu cioè questo vorrebbe dire che in qualche modo lo Stato a un certo punto arriva e dice va bene il 10% il 20% lo mettiamo a servizio della comunità quando io in realtà il servizio della comunità l'ho già ampiamente pagato e sappiamo tutti benissimo il livello di imposizione fiscale che c'è in questo paese e che si riflette su tutti quanti i cittadini e imprese quindi tutto questo per dire per noi è un principio fondamentale quello che insomma le persone che hanno accumulato un piccolo o grande patrimonio siano nell'assoluta libertà e siano nell'assoluta posizione di poterlo gestire nel migliore dei modi per poter tutelare loro e quelli che sono i loro obiettivi possono essere dei figli possono essere gli obiettivi che si sono proposti di portare avanti ogni ingerenza da quel punto di vista mi sembra insomma adesso voglio essere totalmente mal riposta faccio una domanda alla fine c'è una piccola ingerenza che c'è già ad esempio faccio un esempio dei peer i peer sono una realtà i piani lo stato ha tanti modi per poter in qualche modo incentivare o indirizzare il risparmio e attenzione anche qui bisogna stare attenti perché secondo me ci sono alcune azioni dove lo stato può in qualche modo agire in maniera costruttiva c'è questa teoria del nudging cioè nudging in inglese vuol dire la spinta gentile la spinta gentile e quindi negli Stati Uniti tutti i plan for one che sono tutti piani pensionistici individuali in qualche modo hanno ricevuto una spinta gentile per far sì che le persone incominciassero ad accumulare per la pensione individuale dove si è cercato con degli accorgimenti di far sì che le persone cose banali tipo sei già diciamo enroll dentro un piano pensionistico se non vuoi farlo togliti già questo fatto faceva sì che le persone di default incominciassero ad accumulare piano pensionistico allora ci sono una serie di azioni che in qualche modo ritengo possono anche essere interessanti il tema del PIR è un altro di quelli che dal punto di vista del principio non è poi così sbagliato cioè cerchiamo di creare dei meccanismi che incentivano attraverso il risparmio un utilizzo diretto del risparmio su un sistema economico un sistema economico di paese dove se le persone sono interessate a investire su attività diciamo imprenditoriali del paese ricevono da parte dello Stato dei benefici di carattere fiscale non siamo noi i primi a inventarla questa cosa gli inglesi lo faranno un sacco di tempo i francesi lo faranno un sacco di tempo quindi da un certo punto di vista il principio per cui una piccola percentuale del patrimonio delle persone a loro scelta possa essere in qualche modo indirizzato in un modello di questo tipo di per sé non mi sembra sbagliato il problema è il percorso come dire che poi tutta questa cosa comporta ovvero sia sono stati a quel punto costruiti dei prodotti che hanno delle commissioni altissime e quindi cosa succede succede che le persone si ritrovano a investire in prodotti che sulla base del beneficio fiscale hanno però di fatto un costo in quanto prodotto costruito in un certo modo che è molto più grande del beneficio fiscale che può essere generato o almeno quello è il rischio però Paolo hai detto una parola magica che voglio subito girare a Friedman che è il tema pensioni io ho letto recentemente mi è capitato quando uno va a scavare nei siti internet dei vari ministeri trova cose interessanti un rapporto del MEF del ministero dell'economia e delle finanze del 2017 che faceva vedere l'aumento della spesa pensionistica sul PIL in Italia a legislazione vigente quindi ancora con la legge Fornero per ora non è ancora modificata da quota 100 ma rimasta era il 2017 quindi non avevamo diciamo nessuna nessuna avvisaglia che la legge Fornero venisse cambiata oggi le pensioni pesano circa il 15% del PIL 15-16% nel 2045 che è il punto di picco della spesa pensionistica in Italia cioè quando tutti i baby boomers saranno andati in pensione e diciamo non lo voglio dire nel modo più delicato possibile sono ancora ridotti quindi col massimo dei baby boomers in pensione noi avremo una spesa per le pensioni nel 2045 del 18% del PIL quindi a legislazione vigente con la Fornero a causa della passaggio dei baby boomer dalla corte dei baby boomer dalla vita lavorativa alla vita pensionistica alla vita non attiva diciamo e con una demografia bassa come quella italiana altro problema e dai livelli occupazionali molto inferiori con retribuzioni inferiori e molto più frammentati noi avremo una spesa pensionistica che raggiungerà il 18% del PIL molta della quale è coperta dalla fiscalità generale quindi immaginiamo tasse che crescono e lo stesso ministero dell'economia delle finanze dice ci saranno meno soldi per la scuola e meno soldi anche per la sanità e soprattutto dico io una capacità di muoversi sul famoso sentiero stretto dell'economia italiana cioè quello che deve in qualche modo sostenere la crescita ma nello stesso tempo non fare crescere il debito ancora peggiore di quello attuale e oggi si dice addirittura di smontare la legge Fornero con quota 100 diciamo a regime 13 miliardi lordi il primo anno e poi 20 miliardi negli anni a venire noi parliamo di una spesa pensionistica sul PIL che proiettata al 2045 porta la spesa a oltre il 20% del PIL ora la domanda che faccia Friedman è noi sappiamo abbiamo l'orizzonte ce l'ha il ministero dell'economia delle finanze se guarda in avanti di un sentiero che si restringe sempre di più come si può invertire la rotta come questo MOLOC che poi è il vero elefante nel soggiorno dell'economia italiana del bilancio italiano cioè una spesa pubblica una spesa assistenziale pesantemente diciamo sul tema delle pensioni può essere invertita come rotta quali sono le ricette che servono all'economia italiana e soprattutto alla spesa pubblica italiana al decisore a chi fa le policy in Italia per provare a invertire la rotta prima dicevamo Macron ha le risposte giuste ma quali sono le risposte giuste per l'Italia? Vuoi un commento sui pensioni? Bene ma siccome non ho potuto rispondere sulla tua domanda su quello che è stato discusso prima preferisco fare un passo indietro però io non temo che Giuliano Amato torna nel buio della notte a mettere la sua mano nella tua tasca quest'anno io non credo che questo governo che deve vincere elezioni 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 perché c'è campagna elettorale permanente si permetta fare una patrimoniale certamente alcune delle dichiarazioni sia del cinico sia del neofito che parlano di come si può chiedere un aiuto una mano dagli italiani fanno paura perché mostrano sia un'incomprensione o un cinismo della politica economica sia una volontà di non solo ingannare il pubblico ma poi sfruttare il pubblico una volta ingannato ma non credo che accadrà questo credo che i veri rischi qui sono che per i conti pubblici per le pensioni per il dirigismo che c'è perché non abbiamo analizzato bene prima quello che Francesco ha voluto capire tu hai voluto parlare di statalismo e il dirigismo è tutto da un pezzo di incompetenza nella politica economica che sia pensione o sia dirigismo certamente se vedi un governo che è composto da persone che dicono che vogliono per decreto licenziare autostrade dopo Ponte Marandi o vogliono nazionalizzare autostrade o vogliono nazionalizzare l'Italia o vogliono mettere i giocattoli di Natale quando i bambini ricevono dei trenini insieme con i piccoli aerei e vedere cosa avviene fuori con l'Italia ferrovia che se vogliamo perdere 10 miliardi in 5 anni invece di 5 miliardi si può mettere insieme i bravi signori che ti fanno funzionare i treni con quelli di Alitalia e i sindicati di entrambi in bocca al lupo invece queste cose irresponsabile incompetente dirigiste stataliste antistorici che ci portano indietro 30, 40, 50 anni stanno accadendo e per te persone con posizione di responsabilità stanno portando avanti delle gravissime errori nel dirigismo e poi mostrano incompetenze e mancanze di comprensione se tu dici guarda per ogni persona che con la quota 100 noi mandiamo in pensione a 62 o 63 anni arrivano tre nuovi giovani per lo stesso costo di quel stipendio e come fai a sapere questo? Non perché l'ha detto Laura Castelli ma perché Luigi Di Maio ha detto che quando ho convocato i capi dell'industria statale immaginate siamo in via Veneto a MIS il ministro del lavoro nero scusami il ministro del lavoro come si chiama? Di Maio sì Di Maio sbaglio con questi nomi talvolta Palazzo Chigi mi confondo il ministro Di Maio annuncia a tutti i capi di Eni e Enel non c'è più Iri ma non c'è Effim ma tutti quelli film meccanica film cantieri tutti in una stanza tutti che hanno un mandato che scade fra sei mesi un anno due anni che forse vogliono essere riconfermati forse non importa forse e dice potete voi per favore assumere 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 loro prima guardano Di Maio come noi americani guardiamo Donald Trump cioè è il vecchio nonno un po' rinco ma invece Di Maio è un giovane nonno rinco quindi è una situazione in cui dice ai capi dell'industria statale voglio assumere potete e si dice qualcuno per ogni persona che mandiamo in pensione con quota 100 possiamo far entrare tre persone questo non esiste nella realtà non esiste in un'economia come Italia o Germania o Francia non siamo negli anni 50 quando l'Unione Sovietica con un piano quinquennale poteva decretare quel tizio di 62 anni lascia fabbrica noi mettiamo i giovani al suo posto siamo in Cina c'era gente che mi faceva attraversare la strada al semaforo la piena occupazione lo stato quando la crea diciamo sì ma il punto è che l'idea che quota 100 in qualsiasi modo crea benessere o nuovi lavori è una fantasia io mi sono trovato una volta a Piazza Pulita sulla Sette recentemente con uno che si chiama Agnelli il mio primo libro era contro Gianni Agnelli Agnelli presidente di una piccola associazione di imprenditori che si chiama Cofirma o qualcosa così mai sentito di quello non era Confarginato o Confindustria o Confcommercio a Solombardi era Cofirma è l'unico grillino che ho mai incontrato che fa industriale perché ha detto sì io posso assumere le persone che mandano in pensione la maggior parte le piccole imprese non hanno l'introity la domanda interna è troppo fievole non girano i quattrini e quindi se qualcuno va in pensione spesso è una riduzione di costi fissi un'opportunità di fare risparmi perché non c'è abbastanza introity per giustificare l'assunzione quindi tutte le premesse che sia la filosofia di questo si quota 100 che sia disfare la riforma fornero è la soluzione disfare la jobs act è la soluzione rendere il mercato di lavoro meno flessibile è la soluzione stiamo parlando ludisti non so se in italiano conoscete nell'inghilterra noi diciamo luddites quelli che nel settecento e ottocento è lo contrario alla rivoluzione industriale volevano bloccare il progresso ovviamente nessuno mi crederebbe se dicessi che ci sono persone nel ventunesimo secolo al governo che dopo aver speso miliardi di euro e usato fondi europei per costruire la TAV che collega meglio Francia e Italia vorrebbero bloccare o stoppare questo cosa sono ludisti cioè non esiste questo anti-grande opera anti-progresso anti-modernizzazione se non è una questione di incompetenza o incompetenza Torniamo alle pensioni Ma ho detto ho risposto sulle pensioni 400 e disfare la riforma Fornero è un errore la legge Fornero era quello giusto per l'Italia nel 2012 11-12 piace o meno la legge Fornero era necessario a completare sette grandi riforme che cominciò con Amato e Dini negli anni 90 la legge Fornero aveva le inequità sulle donne e su esudati che riguardavano in caso di esudati bacini di 15 o 20 mila italiani non milioni e quindi il governo Gentiloni il migliore governo per la politica economica che l'Italia ha visto negli ultimi vent'anni il governo Gentiloni che su quel sentiero stretto ha portato avanti con responsabilità e progresso l'economia italiana il governo Gentiloni ha affrontato i problemi con gli aggiustamenti per il vaccino dei esudati ha cercato di migliorare l'uguaglianza fra le donne non abbastanza per uomini e donne e si è fatto qualcosa per i giovani cioè disfare il Jobs Act e la riforma delle pensioni di Fornero è una scemenza è un autogol è un suicidio è una è una è una mossa politica che danneggia l'economia un'altra domanda sul tema pensioni che mi interessa molto Lettona qualche tempo fa un dato che mi ha sorpreso capisci che come dico non è sui decenni cimali il problema di 2-1 non è su come si fa il quota 100 è un inganno non aiuta è una fregatura delle prossime generazioni dei figli e nipoti lui può vendere fondi pensioni privati in futuro ti sottolineisco a diversificare è un business importante perché i giovani non avranno pensioni quindi chi arriva dice metti 75 euro al mese con scravi fiscali in questo fondo e fra 40 anni forse avrai non 25 30% del tuo stipendio precedente con lo Stato ma l'altro 25% in fondi privati la soluzione è fondi privati integrati e non è una cultura che non conosce questo in Germania leggevo e questo è il dato che volevo lanciare 90 milioni di assicurazioni e parliamo di un paese di 80 milioni di abitanti comunque la reforma di pensione e 400 se voi possiamo analizzare tutta la sera perché fa danni all'economia e non crea posti di lavoro si può analizzarlo se vuoi in micro ho già scritto su questo giusto una nota che sembrava preparata non lo è in realtà lo stiamo proprio facendo bene l'anno prossimo costruiremo proprio un prodotto pensionistico individuale Riccardo da quanti anni esiste a te? ah no da 5 allora ok siete in orario ma in Italia i sindacati prima hanno preso i pensioni integrati e le hanno scrimentalizzate in giochi di potere poi non c'erano gli scavi fiscali preparati bene per i clienti poi non c'è la cultura di questo in Italia va promosso va divulgato va spiegato stiamo proprio cercando di fare questa cosa c'è un particolare che qua c'è una contribuzione obbligatoria del 30% 33% 33% mediamente i contributi sono metà tra datori del lavoro e lavoratori fanno 32 e 33% mediamente se lei se lei sono d'accordissimo se lei andasse indietro al 2014 in un libro che si chiamava Amassiamo il gatto pardo avevo suggerito una formula di opting out ho suggerito una formula di detassazione dei contributi per chi usava i fondi privati è chiaro che ci deve essere qualche modo di compensare questo non si può solo aggiungerlo ma questi sono motivi di usare i scavi fiscali incentivi fiscali ma non è un sistema abbastanza user friendly in Inghilterra giusto per portare un esempio il paragone noi siamo in due paesi in Inghilterra lo sgravio fiscale sulla pensione individuale arriva a 40.000 sterline cioè 8 volte cioè cominciano a diventare delle cifre no certo certo però è il termine assolutamente tutto assolutamente è molto bassa è molto bassa quindi lì c'è addirittura loro hanno un problema quasi più grande del nostro per quanto riguarda il pension gap no però stanno cercando di utilizzare questi sgravi fiscali in maniera molto diretta sulla scelta individuale è chiaro che non può essere è un gioco è un gioco dove da qualche parte quello che in macro per me è un problema è gettare soldi fuori dalla finestra non è un modo di fare questione all'economia e quando fai un reddito di cittadinanza è una quota 100 stai buttando soldi fuori dalla finestra o stai comprando un po' di consenso elettorale fra qui e maggio o qui e marzo se Salvini vuole candidarsi prima da solo e non stai facendo stimolare la domanda interna non c'è un effetto moltiplicatore non c'è una crescita o una crescita di lavoro da queste misure che sono il focus stasera sono il focus domani sono il focus per tanto tempo perché è critico per Di Maio e Salvini di essere in grado di dire abbiamo consegnato abbiamo portato la merce che abbiamo promesso invece non è solo la questione di accimare la ricetta la realtà sostante è sbagliato è una non sono politiche e non sono io a dirlo tutte le istituzioni del mondo e tutti gli economisti del settore privato e pubblico hanno capito poi se tutto questo è basato su una castella di sabbia di una crescita di 1,5% che dovrebbe magicamente cominciare il primo gennaio del 2019 per tenere il deficit non a 2,4% ma a 3% cioè non è una questione di decimale è una questione di incompetenza posso introdurre io un altro argomento sempre in temi di politiche economiche e parto da questa cosa qui ho visto qualche giorno fa un grafico molto interessante sull'Inghilterra che faceva vedere dove è stato il grande abbaglio diciamo dietro al tema Brexit ovvero sia facevano vedere l'interesse delle persone per quello che aveva a che vedere il tema Brexit ovvero uscire dall'Europa verso la preoccupazione degli inglesi sul tema dell'immigrazione il tema dell'immigrazione era un tema percepito in maniera molto forte anche prima del tema Brexit che invece prima che si aprisse tutto il tema del referendum era praticamente a zero cioè gli inglesi di fatto non erano preoccupati di essere o meno dentro all'Europa gli inglesi erano preoccupati del tema dell'immigrazione quando poi parte il tema del referendum dell'immigrazione di fatto questi due grafici vanno a coincidere e quindi si associa il tema Brexit con il tema immigrazione ma in realtà la domanda a monte è un po' la domanda che ci stiamo ponendo tutti in Europa come gestire un tema immigrazione che non è tanto vedono almeno il mio percepito non è tanto un problema a livello di paesi europei gli inglesi lo sentono anche in quel senso ma è più in generale su tutto il tema dei movimenti migratori che sta toccando tutti a livello europeo quello è un tema complicato è complicato ed è molto triste che l'Italia è stato uno dei pochi paesi rogue states come Ungaria di Orban e non lo so Somalia o non lo so 5-6 stati Russia Arabia Suddita che non hanno voluto sottoscrivere il Migration Compact allora qui abbiamo un governo nazionalista il nazionalismo di questo governo significa odio gli altri il patriotismo vuol dire amo il mio paese c'è una differenza tra il nazionalismo predicato su odio e quindi il problema della migrazione è una tendenza globale e riguarda centinaia di milioni di persone su un pianeta di 8 miliardi di persone due o 300 milioni di persone in movimento e non è una questione solo di Dublino e non è e poi aggiungi a questo che dopo una crisi finanziaria come è successo durante gli anni 20 e 30 quando popolisti di destra estrema nazionalisti arrivano al potere cercano sempre dei capri ispiratori cercano sempre di incoraggiare le guerre tra i poveri cercano di dire sono gli ebrei gli omosessuali i cattolici i messicani i musulmani i non bianchi che ci minacciano che minacciano il nostro posto di lavoro adesso dico una cosa che forse non tutti saranno d'accordo la prima parte probabilmente si perché non è in dubbio negli Stati Uniti dell'America non c'è nessuna crisi di immigrazione sul confine con Messico nel 2009 a oggi c'è stato un net outflow un flusso netto di messicani un milione di messicani che sono tornati in Messico e 700 mila messicani che hanno voluto entrare in America netto 300 in uscita Trump nel giugno 2015 ha preso un tema che non era sotto discrezione non c'erano proteste non c'erano tanti milioni americani che dicevano abbiamo un problema di immigrazione ha meramente preso un tema e ha usato un linguaggio violente per incitare il razzismo associarsi con i supremacisti bianchi e aiutarsi a vincere il voto in Italia non c'è l'abitudine di integrazione sul modello di Mimo Lucano no anche se per me Mimo Lucano è un eroe nazionale di questo paese bisogna riconoscere che in Italia a differenza della Francia con 4 o 5 milioni di musulmani da generazione non c'è una tradizione di integrazione con persone non bianche è una novità per l'Italia in termini di numeri e di cultura questo non significa però che le dichiarazioni di Salvini che c'erano 500 o 600 mila persone da espellere furono veri e non significa che c'è una crisi in cui la criminalità fra gli immigrati è 29 o 30% e fra gli italiani è 18% non è così le cifre sono manipolate e strumentalizzate e ho fatto una ricerca abbastanza accurata su questo quindi Trump e qualche mini Trump cioè qualche tempo fa qualcuno ha avvertito il rischio in Europa di mini musulini dei piccoli musulini in giro il problema non sono i piccoli musulini sono i piccoli mini Trump che prendono coppia in colla la politica di odio contro gli immigrati inventano una crisi o esagerano i problemi Italia oggettivamente è stato lasciato solo dall'Europa negli ultimi anni ma capita che un cinico ministro degli interni in un governo di centro-sinistra nell'arco di un paio di anni è riuscito a pagare i tangenti a milizia in Libia e facendo un sacco di lavori sporchi che non vogliamo sapere che hanno ridotto da 85% gli imbarchi gli sparchi in Italia prima dell'arrivo di questo governo ben prima quindi ci sono seri ingani su fatti e fake news e informazione gli italiani si sentono in tante comunità minacciate di persone di colore e sì ci sono tanti meno istritti nel sud o altrove che sono convinti che questi signori non vengono qui a lavorare le toilette e fare anche lavori di bassa malavalanza che gli italiani non vogliono fare ma sono qui a mangiare i nostri bambini e ucciderci sì perché se un politico usa il linguaggio di rettore che incendiaria ogni giorno e incita razzismo può anche incitare violenza e accrescere il suo consenso elettorale sta credendo in questo momento per quello che dico razzismo statalismo nazionalismo al socialismo il rischio è che siamo più nel 1922 che nel 1789 un'ultima mia domanda molto veloce faccio flash a tutti e due per lasciare dieci minuti anche le domande al pubblico si parla abbiamo parlato oggi di livelli di scarsa competenza diciamo a livello di chi deve prendere decisioni di policy va detto che diciamo il governo è un po' lo specchio del paese che è in Italia è dal 2008 che lo diciamo anche prima che abbiamo degli scarsi livelli di educazione finanziaria parliamo di un paese che questo me lo diceva l'ho letto in una ricerca in cui una buona parte qualche diciamo si conta in decine di percento quindi 20-30% della popolazione che non sa neanche leggere il significato di una percentuale 28% all'alfabeto in Italia e il numero di italiani laureati 18% meno di 20% meno della metà della media europea è fatto il terzo ultimo paese Ox su questo c'è bisogno anche per quanto riguarda le scelte di investimento privato le scelte degli elettori in una democrazia importante e l'economia e la finanza sono temi sempre più rilevanti dentro le scelte decisionali degli elettori insomma detta in poche parole bisognerebbe insegnare un po' più divulgazione economica e finanziaria nelle scuole bisognerebbe fare più divulgazione di determinate materie cercare di fare in modo che le persone ne sappiano di più perché la sensazione molte volte che prevalga lo storytelling rispetto ai numeri rispetto a quella che è la cronaca i numeri che parlano e che parlano in modo inequivocabile su alcune diciamo situazioni in Italia io mi sono ritrovato e mi ritrovo tutti i giorni a commentare articoli che scrivo in cui la gente mi parla di Germania che alza lo spread cioè cose di questo tipo che sono un pochino diciamo se lo dice lei se lo dice lei ovviamente il tono è questo è una domanda è una domanda è questa servirebbe un po' più di educazione finanziaria in questo questo ha un problema di educazione finanziaria indipendentemente dai vertici o in generale questo non voglio fare una marchetta ma ho scritto un libro proprio per questo motivo anche l'idea mia era il libro è lì peraltro così faccio io la no lasci stare il libro è il libro più pop che abbia mai scritto nel senso che non è una saggistica stile molto ponderoso è un manuale di economia che spiega cosa è il debito come funzionano le banche come funziona lo spread come saranno le cose con le pensioni quali sono i benefici e i pregi difetti dell'euro dove stiamo andando e quale può essere una ricetta migliore per l'economia per creare lavoro nel libro ho fatto un sondaggio con Nando Paglioncelli di Ipsos e abbiamo scoperto che 60% degli italiani proprio confessano di avere una conoscenza molto approssimativa con l'economia altri 20% quasi niente e 20% sono i tuoi clienti che sono quelli che leggono i giornali siamo nel paese in cui solo 3 milioni su 60 leggono giornali e libri 3 milioni di italiani 5% della popolazione nazionale compra un giornale o legge un libro una volta all'anno 3 milioni su 60 poi qualcuno dice è nel tuo paese e io sarei costretto a mettere che in America è anche non solo le cifre ma sicuramente anche una piccola minoranza di intelligenza però se noi abbiamo una minoranza di 5% per noi vuol dire 60 milioni americani che no non vuol dire 60 milioni vuol dire no no 15 milioni 15 milioni su 300 ma il problema è questo anche potremmo finire imitando Romano Prodi che parla sempre di scuola e università perché alla fine uno dei problemi di base con l'economia italiana è che la scuola e l'università non sembra adatto per l'Italia del ventunesimo secolo non sembra adatto per preparare le nuove generazioni per un'economia digitale non sembra adatto per la meritocrazia neppure fra i professori stessi che sembrano dei burocrati che tengono fino all'ultimo respiro il loro posto e non sono molto intellettualmente curiosi o aperti o flessibili tanti sono i problemi ma se posso chiudere con un non un liete fine ma un'eservazione un pochettino più forse filosofico e positivo per il futuro chiudo questa nuova edizione del libro con una citazione di Abraham Lincoln che ha detto si può ingannare tutti un po' di tempo per un po' di tempo si può ingannare un po' di gente per sempre ma non si può ingannare tutti per sempre quindi prima o poi la vera risposta alla tua ausorazione è che in Italia gli italiani sono per la metà vittime e per l'altra metà complici nel loro destino collettivo e si purtroppo se 60 o 62 percento gli italiani appoggiano Di Maio e Salvini meritano tutto che Di Maio e Salvini faranno perché avranno votato e sostenuto loro se Salvini diventa un Gabriele D'Annunzio di Fiume un leader del paese del futuro potrebbe essere che c'è un grande patriotismo e nazionalismo ma per l'economia non vuol dire che le cose possono andare sempre bene un paio di domande al pubblico o vorrei aggiungere qualcosa tu Paolo no ma solo una nota diciamo io ritorno solo al tema della come dire più in generale del risparmio e dell'educazione finanziaria anche io vorrei insomma aggiungere una nota positiva la nota positiva è che tutta questa discussione sulla tecnologia che c'è in questo in questo periodo beh ecco se vogliamo vedere tra i vari pro i contro un lato sicuramente positivo è che la tecnologia ha di fatto abbassato in maniera incredibile le barriere di ingresso nel mondo della finanza e dei servizi bancari questo che era un mondo diciamo assolutamente governato da grandi gruppi da grandi colossi e con capitali molto molto grandi oggi è un mondo che invece può essere affrontato anche da piccole società da start up da aziende piccole che ripensano il modello di business se lo ricostruiscono portando dei benefici innegabili perché l'innovazione poi parte quasi sempre da processi esterni che si infilano e cercano di ricostruire modelli nuovi allora questa cosa qui potrebbe essere un grosso motivo di cambiamento negli usi e nel modello con cui le persone si avvicinano a risparmiare i soldi a pagare a cercare dei prestiti in questo modo innescando dei modelli più efficienti che costano meno che funzionano meglio eccetera eccetera quindi tante volte sicuramente l'educazione finanziaria è una parte indispensabile però sono processi che richiedono periodi lunghissimi e grandi investimenti si può riuscire a migliorare anche attraverso dei modelli diciamo più indiretti semplicemente rendendo le cose più semplici il famoso esempio dell'iPhone nessuno sa come funziona però è facile da usare quando te l'hanno raccontato se te la raccontavano io me lo ricordo perfettamente ti dicevano ma un telefono senza tastiera tu dici no un telefono senza tastiera non si può usare come fai poi te l'hanno dato in mano funzionava benissimo e da quel momento tutti lo usano ecco innovazione vuol dire anche riuscire a costruire dei processi che uno non si immagina ma che ti permettono di fare delle cose meglio a costo più basso domande? le raccogliamo tutte quindi alzate le mani nel frattempo da una parte avete detto che abbiamo i governanti che sono lo specchio del nostro paese dall'altra avete detto che siamo un paese in cui i privati mettono da parte i soldi e lo Stato li sperpera dove si coniuga questa apparente contraddizione? evidentemente c'è una bella separazione fra cuore e testa fra gli italiani perché col cuore votano persone che fanno danni alla loro economia e con la testa sanno risparmiare e salvarsi non è una grande paradosso alla fine la mia osservazione dell'Italia è che per generazioni generazioni imprenditori italiani hanno imparato quando sono venuto qui per la prima volta negli anni Ottanta per il Financial Times e c'è il pentapartito non è che cioè gli imprenditori hanno sempre dovuto in Italia spesso andare avanti nonostante il governo e nonostante le ruote come si dice le ruote il bastone nelle il bastone tra le ruote che le politiche economiche hanno creato il fatto che l'Italia è il second biggest savings ratio dopo Giappone nel mondo è positivissimo per l'italiano vuol dire che non siamo all'osso ma se andiamo avanti così succede che fra 20 25 30 anni quei risparmi quei BTP caduti adesso ma ci teniamo fino a maturity ok tutti quelli patrimoni posseduti dai negozianti baristi e partito IVA in tutto il paese saranno spesi perché lo welfare state italiano è famiglie stesi e prima o poi si arriva all'osso in un paese che non produce bambini ma che non dà il benvenuto agli immigranti che possono pagare i contributi come Tito Baeri ha spiegato molto bene senza immigranti Italia morirà economicamente quindi se vogliamo farci del male chiudiamo le confine non abbiamo più immigrati e diamo via quei soldi che Fornero con la riforma ha cercato di tenere nel cubrio diamo via come caramelle ora per vincere il prossimo volto questo è il problema non è che gli italiani non hanno benessere ma prima o poi quello si esaurirà esaurirà finirà abbiamo una domanda qui no prima c'è Pagliarini domanda velocissima sul futuro dell'Europa c'è l'ISPI che giustamente dice che nel mondo comandano i grossi forti Cina Stati Uniti eccetera eccetera dice l'Europa non comanda non c'è perché l'Europa non parla mai con una sola voce ora sull'inchiesta c'è un professore veneto che insegna da 30 anni negli Stati Uniti a Madrid si chiama Michele Boldrin che in uno splendido articolo era sulla Catalonia ma finiva quell'articolo proprio affrontando il problema ma l'Europa sarà in grado di parlare con una sola voce e lui diceva e io sono d'accordo che l'unica possibilità è eliminare i vecchi Stati in azione cioè invece di avere l'Europa d'Italia Francia Germania sempre in lotta tra di loro e che non parleranno mai con una sola voce lui dice l'Europa di Catalonia Sicilia Baviera eccetera l'Europa dei popoli che hanno tutto l'interesse ad avere una vera Europa che parli con una sola voce posso fare un piccolo inciso era l'idea della Lega Nord quando ancora c'era Nord nel nome l'avevo chiamato il Ministero del Bilancio come collaboratore Boldrin è un piccolo genio matto come un cavallo ma è bravo intelligente facciamo anche un'altra domanda così poi c'è un argomento che avete citato quello della mancata crescita demografica io credo che se non ci sarà una politica che sia in grado di cambiare la tendenza questo è un paese che nonostante tutti gli sforzi dei migliori economisti continuerà a decrescere in termini di sistema sociale in termini di innovazione anche basta entrare in una grande azienda e riuscite a capire cosa significa questo la mancanza di risorse giovani è qualificata sulla qualificazione una seconda osservazione il sistema educativo italiano nell'insieme a mille difetti andrebbe innovato ma nell'insieme qualifica perché le migliaia di giovani che hanno lasciato questo paese non fanno fatica a trovare lavoro all'estero proprio perché c'è una preparazione culturale umanistica che aiuta poi nella vita quindi veramente lo sforzo è facciamo crescere questo paese ma senza giovani questo è un paese che non potrà mai crescere facciamo una risposta a queste due osservazioni su questo sono d'accordo che c'è una brain drain che ci sono medici e scienziati italiani eccedenti e fra l'altro la contribuzione che io ero recentemente a Trieste dove c'è un parco scientifico molto avanguardio si chiama Aria fanno genetica fanno innovazione process innovation industriale incubato di aziende digitali molto interessante e non riescono le imprese della zona privati a trovare gente qualificata e quando trovano qualcuno mi raccontavano che non è di lì hanno difficoltà a farli spostare da Roma a Napoli a Trieste perché non c'è la cultura di mobilità non è negli Stati Uniti dove un new yorkese va in Connecticut un New Jersey va in Colorado uno di California va in Texas qui la gente spesso e anche i giovani veramente hanno questo problema di mobilità è un problema qui di testa culturale secondo me e anche economico anche economico perché se il costo di affitti in un paese dove la tradizione culturale di genitori che ti danno un piccolo appartamento e ti pagano questo e non c'è la possibilità di viaggiare è una serie di problemi ma se facciamo la zoomata indietro non voglio dire che l'Italia non è un grande paese con innovazione e potenza industriale lo è ma Italia non riprenderà mai cerco di spiegare in questo libro non può fare diventare competitiva aumentando l'abisso fra la produttività del nord Europa e Italia 25% se non fa le riforme politicamente impopolare che Renzi ha cercato di fare male ha fatto la metà della metà delle cose che ha promesso è stato arrogante antipatico è diventato un democristiano squalido si è andato a letto con Denis Verdini signori chi andrebbe a letto con Denis Verdini Matteo Renzi lascia stare il patto del Nazareno ha fatto il patto del Marcellaio quindi nonostante tutti questi errori e presunzioni di Renzi era l'unico primo ministro negli ultimi 30-40 anni in Italia dagli anni 90 almeno che ha cercato di fare le grandi riforme sul lavoro fisco e burocrazia che Inghilterra ha fatto negli anni 80 e Gerhard Schroeder ha fatto con i Hart's Reform da 2003 4-5 e il problema che nessun politico italiano vuole raccontare all'elettorato è che per modernizzare l'economia ci vuole 5 o 10 anni di sofferenze in alcune zone del paese trattamento erratico una difficoltà enorme di creare ammortizzatori economici e sociali per quelle zone nel caso di Gran Bretagna di Galles dove i minatori soffrivano erano distrutti interi province senza lavoro e dovevano ricominciare Greenfield da capo l'Italia non è un paese evidentemente dove si può avere una solidarietà nazionale che dice ok stiamo per fare una serie di riforme sarà un po' duro non tutti vinceranno anzi sembrerà squalibrato il risultato le diseguaglianze di reddito non saranno messe a posto per 5 o 10 anni ma dopo saremo competitivi avremo più occupazione e più crescita cerchi di vendere quello a un popolo è difficilissimo anche se quello per me è la realtà che non arriveremo a vedere presto io volevo soltanto fare un brevissimo commento sul tema della qualificazione dei ragazzi in Italia perché invece io sono un pochino meno ottimista porto un piccolo esempio che è il nostro come un'azienda adesso siamo circa 90 e le faccio un esempio su delle posizioni che abbiamo aperte noi noi siamo un'azienda che si occupa di finanza di tecnologia noi abbiamo il 40% delle persone che lavorano con noi di più che sono di fatto degli ingegneri informatici eccetera noi siamo strutturalmente alla ricerca di persone che sappiano programmare cioè noi abbiamo costantemente da quando siamo partiti posizioni aperte sempre e comunque sull'abito della tecnologia e non riusciamo a riempirle abbiamo messo fuori una posizione per un legal counsel cioè un avvocato che ci desse una mano perché dopo un po' di tempo abbiamo bisogno in una settimana mi sono arrivati i 400 curriculum c'è qualcosa che non funziona il secondo problema non funziona perché io avessi avuto la stessa propensione a come dire a lavori che hanno a vedere in qualche modo con la tecnologia non ne avrei assunti 400 però 30 ne avrei assunti e io su quei 400 avvocati ne ho preso poi alla fine uno quindi c'è un tema ed è un tema complesso da gestire perché vuol dire reindirizzare un certo modo di studiare vuol dire quello che dice lei è vero che sono un sacco di bravi italiani che vanno all'estero però sono quelli bravi che vanno all'estero e quindi io poi a Londra mi ritrovo ad assumere a Londra degli italiani che sono lì e dice ma perché sei andato via perché e a proposito di tempo tiranno direi che il nostro tempo a disposizione è scaduto per questa serata il nostro tempo a livello di anno è scaduto con redazione finanza io vi auguro intanto ringrazio Money Farm per il sostegno che ci ha dato ringrazio Clubhouse Brera per questa bella partnership anche a livello di location che ci consente di fare degli eventi sempre partecipati e belli ringrazio tutti voi e vi auguro buone feste ovviamente un felice 2019 ci rivediamo l'anno prossimo con redazione finanza grazie a tutti buona serata grazie a tutti